Da circa 20 giorni una delle fontane che si trova lungo il percorso pedonale di Parco dell'Europa Unita a Poggio Tre Galli è abbandonata a terra dopo essere stata buttata giù da qualche vandalo. Una delle altalene che si trova nell'area giochi poco più avanti è stata rotta. Le fontane all'ingresso dell'area d'altronde non sono un bel biglietto da visita per chi inizia la sua passeggiata. Questi sono alcuni dei segnali evidenti dello stato di abbandono che un cittadino residente nel Rione ha voluto sottolineare alla nostra redazione. Siamo andati con lui a fare un giro nel parco per fotografare le condizioni in cui versa la zona molto frequentata non solo dai cittadini del quartiere. Tanti infatti arrivano al parco per trascorrere qualche ora all'area aperta e mentre i grandi passeggiano o fanno una corsa per tenersi in forma i più piccoli giocano negli spazi a loro dedicati. Un luogo di aggregazione dunque per socializzare e riscoprire il senso di comunità. Proprio per questo forse fa ancora più rabbia osservare come il cuore verde di Poggio Tregalli sia poco considerato da chi avrebbe il compito di provvedere alla sua manutenzione. La buona volontà dei cittadini che pure si sono organizzati autonomamente per la pulizia e la cura del verde non è sufficiente. Parliamo di piccoli interventi, ci ha raccontato il cittadino di Poggio Tregalli, non di lavori che costerebbero molti soldi. E poi c'è anche chi porta a spasso il proprio cane, ha continuato senza preoccuparsi di pulirne i bisogni che restano così nei giardini o lungo il percorso pedonale dove giocano anche i bambini. I cittadini avvertono dunque l'assenza delle istituzioni che non intervengono più neanche per piccoli lavori di manutenzione.